E in contemporanea al corteo organizzato per lo sciopero generale a Roma c'è stata l'occupazione di un palazzo sequestrato e all'occupazione è subito l'intervento della polizia. Vediamo i particolari in questo servizio. Le forze dell'ordine sono intervenute subito per riprendere possesso del palazzo occupato dai movimenti per la casa. Dopo lo sgombero gli occupanti si sono riuniti in strada e lì li abbiamo incontrati per farci raccontare il perché della loro azione e il bilancio della giornata. Noi abbiamo scelto questo palazzo perché è un bene pubblico che attraverso una serie di compravendite è finito a un privato per poi essere sequestrato per mafia. In un momento in cui anche le inchieste giudiziarie mostrano come le case popolari non si assegnano perché una congrega politica e criminale che cosa fa? Interessa piazzare le famiglie dentro dei residents orribili facendo gravare sul bilancio comunale migliaia e migliaia di euro. Non le faranno mai le case popolari. Ora la contraddizione che noi denunciamo da anni è esplosa, sta sotto gli occhi di tutti e quindi andava effettivamente sottolineata con un'azione di riappropriazione popolare proprio di un bene ex pubblico ma di fatto confiscato alla mafia. Questo era lo spirito dell'iniziativa. Il bilancio è stato grave perché contiamo una decina di feriti e ci sono al momento 13 trafermi, arresti, persone in attesa di essere processate per direttissimo. A fine serata l'assemblea si è sciolta mentre l'edificio è rimasto presidiato dalla polizia.